Buongiorno, mi sono Maurizio Romagnoli, io brand chef Ristorante Amarena, oggi è la classica Italia, risotto e gorgonzola, per questo bambino è la classica Querciabella per la Vine.com. Questo bambino è semplice, ma, per me, è molto buon bambino, provate e preparate a casa. Vino esclusivo iscrivetevi su www.vinecomwines.ru, si trova la vegana. Parfum è, sembra, è molto buon bambino. Sublime, dai, iniziamo. Scriviti mazna, luk shalok. Ora, la glute di luk shalok e le vece mazna, e adesso mettiamo il riso. ciò giari in сейчас будем смотрите как вот так надо обязательно это принципиально сейчас вины обязательно сразу boulion vegetable na vegan сейчас аккуратно 17 minut è un po' più difficile perché risotto risotto è sempre difficile bisogna 2-3 раза perché, come diceva, non bisogna non mi piacere non mi piacere in italiano si dice a londra guarda guarda posso? perché è un povara ma un po' più cioccio parmesan che è una mantecatura gorgonzola cioccio restiotto parmigiano reggiano proviamo a provare e ora siamo prastati a blu da risotto cras de vino e gorgonzola ma siamo prastati a cucianti classico quersia bella è molto prastato è molto buona non ti preoccupi che cianti classico quersia bella percogliare percogliare io mi prego vediamoci sul canale minacomvainz percogliare percogliare percogliare